Siamo arrivati al 4 dicembre e proseguiamo nel nostro percorso dell'Avvento attraverso il tema della attesa. La attesa l'abbiamo vista nel dipinto di Giorgione con i cosiddetti tre filosofi interpretabili come i tre remagi in attesa che cali la sera e che si disegnino sulla volta celeste le rotte delle stelle e le indicazioni degli astri. E adesso passiamo ad un altro dipinto completamente diverso ma che ci riporta proprio a questo stesso sentimento, il desiderio di conoscere cosa c'è oltre l'orizzonte, cosa c'è al di là del mistero. Andiamo a condividere il nostro schermo e scopriamo il dipinto di quest'oggi. È un dipinto molto noto, molto conosciuto, il Viandante sul mare di nebbia, eseguito nel 1819 dal grande pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich. Eccolo qua, il dipinto è conservato nella Kunsthalle di Hamburgo, anzi, forse è l'opera più celebre di questo peraltro prestigioso, solenne, notevole museo. rappresenta un uomo che è salito su una rupe, su una roccia, su una propagine di una montagna e si tratta del paesaggio della Sassonia, non lontano dalla città di Dresda dove Friedrich viveva e dalla sommità di questa montagna quest'uomo si affaccia verso l'orizzonte di un paesaggio i cui contorni sono indefiniti, il cui orizzonte è negato proprio dalla presenza di questa nebbia, di questo mare di nebbia che offusca i contorni, che impedisce la vista limpida. Sono state fatte molte supposizioni su chi sia quest'uomo, quest'uomo che forse è un ritratto idealizzato di un amico del pittore precocemente scomparso e quindi questa possibile identificazione darebbe anche un significato ancora più profondo, più drammatico, se vogliamo, a questo dipinto così evocativo, così rappresentativo di una fase, di una stagione storica, appunto quella del romanticismo, che si apre sostanzialmente dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo e quindi con il desiderio di voltare pagina rispetto all'eroismo titanico dell'età napoleonica, ben rappresentato dallo stile impero, e a dare invece una risonanza più interiore, più intensa all'arte. Friedrich è proprio uno specialista di questo tipo di visioni, di questo tipo di immagini e la caratteristica dei suoi dipinti è quella di presentare quasi sempre le figure umane e i personaggi visti di spalle, visti di schiena, così che per noi che guardiamo l'opera c'è una fortissima immedesimazione, un'immedesimazione cioè nello stesso, nell'identico punto di vista dei protagonisti. Quindi noi abbiamo da una parte il viandante, l'uomo sul mare di nebbia, appunto in questo grande dipinto di Hamburgo e quasi in Pandan questa donna che si affaccia su un panorama più sereno, più rasserenato, di solito si considera che questa sia la luce del tramonto. È un dipinto, anche questo conservato in un museo tedesco, nel Museo Wolfgang di Essen, nella Ruhr in Renania. Ora, questi due dipinti di Friedrich, il viandante sul mare di nebbia e la donna che si affaccia sul tramonto, sono stati eseguiti proprio tra il 1818 e il 1819, esattamente nello stesso torno di tempo, nello stesso anno in cui la poesia romantica raggiunge forse uno dei suoi apici più toccanti, con la stesura da parte di Leopardi dell'infinito. Di questo idillio, qui vi sto mostrando il manoscritto che è conservato nella casa Leopardi di Re Canati ed il manoscritto è molto impressionante perché se lo guardiamo c'è una sola correzione, una sola cancellatura e non c'è commento migliore al dipinto di Friedrich delle parole di Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminato spazio di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cuor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa infinità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mar. Naturalmente siamo di fronte ad uno dei capolavori assoluti della letteratura italiana, ma è un dipinto, scusate, è una poesia che come vedete è in perfetta consonanza con il dipinto di Friedrich, anche se il paesaggio non è quello dell'Erzgebirge, cioè della regione montuosa della Sassonia, ma dei colli delle marche. E tuttavia io vorrei aggiungere ancora un altro pezzetto, stiamo per concludere questo anno 2021, che ci ha portato anche il bicentenario dalla morte del poeta milanese Carlo Porta. E proprio mentre Leopardi scrive l'infinito, si parva lì, c'è anche Porta, scrive una poesia che ci parla di Romanticismo. Cos'è il Romanticismo nelle parole di Carlo Porta? Naturalmente la poesia è in milanese e io spero che risulti abbastanza comprensibile. Fuera le Porta Ludwiga, un mio sulla sinistra, in tra due fontanini e tra due fil di piante che fa Umbria, che è un senterulin, solitari, patetec, delissius, che il seperra zigzag dent per i pra e che il par proprio fa per i malinconi d'un pensierus. Tu scos, l'ensì, l'aiuta la passione. Se n'è, non fa du pass tra quei acqui, tra quei piante, tra quei l'Umbria, che si sente acquatasse d'un certo magù, si sente trasportasse d'un certo estes di malinconia, che è il sgonfiaioce, senza sapere il perché, e il sforza a piange, di un piange che fa piacere. Naufragarme dolce in questo mare, un piangere che fa piacere. Questa è la sintonia tra i poeti romantici, il re canatese Leopardi e il nostro milanese Carlo Porta, e il loro ricordo ci viene sollecitato, suggerito, proprio per questo quadro dell'attesa, questo quadro del mistero, questo quadro dell'infinito, che è il viandante sul mare di nebbia, di Pinto da Caspar David Friedrich. A domani per proseguire con il nostro calendario.